Cominciamo con le parole di Papa Francesco durante l'Omelia Mattutina a Casa Santa Marta e l'intervista al Pontefice per un giornale olandese. Un credente non può vivere da faraone, ha detto riferendosi alle ultime vicende che hanno interessato il Vaticano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Vescovi e sacerdoti vincano la tentazione di una doppia vita. La Chiesa è chiamata a servire, non a diventare affarista. E' uno dei passaggi dell'Omelia Mattutina di Papa Francesco a Casa Santa Marta. Il Pontefice ha messo in guardia dagli arrampicatori attaccati ai soldi, che fanno tanto male alla Chiesa. Servire è la gioia della Chiesa, andare oltre, sempre andare oltre e dare la vita. Questo è quello che ha fatto Paolo, ha precisato il Pontefice, servire. Anche nella Chiesa c'è chi invece di servire, di pensare agli altri, di gettare le basi, si serve della Chiesa. Gli arrampicatori, gli attaccati ai soldi appunto. E quanti sacerdoti, vescovi, abbiamo visto così? Quando la Chiesa è tiepida, chiusa in sé stessa, anche affarista, non si può dire che sia una Chiesa che ministra, che sia al servizio, bensì che si serve degli altri. In un'intervista ad un giornale olandese, il Papa ha anche affermato c'è sempre il pericolo della corruzione. Nel colloquio integrale con i redattori, Francesco parla dell'aiuto della Chiesa ai più poveri e osserva. Un credente non può vivere da faraone. Francesco riporta a Radio Vaticana, afferma che con i governi si possono fare accordi, ma devono essere chiari, trasparenti. Per esempio, dice il Pontefice, noi gestiamo questo palazzo, Casa Santa Marta, ma i conti sono tutti controllati per evitare la corruzione. Perché, afferma, c'è sempre la tentazione della corruzione nella vita pubblica, sia politica, sia religiosa. La povertà è sempre al centro dei pensieri di Francesco, che afferma se un credente parla della povertà o dei senza tetto e conduce una vita da faraone, questo non si può fare. Poi confida di volere un mondo senza poveri. Però la cupidigia umana c'è sempre, la mancanza di solidarietà, l'egoismo che crea i poveri. Anche la Chiesa comunque deve essere povera perché Gesù è venuto al mondo senza tetto e si è fatto povero. Un richiamo all'essenzialità che vale per tutti, compresi i laici. Tuttavia c'è il diritto ad avere una vita dignitosa. Dunque, lavoro, casa, terra.